Qua ormai stiamo degenerando, mi hanno segnalato in via Generacantore, hanno spaccato delle auto, dei furgoni. Una serie di furti su vetture parcheggiate a Marghera stanno esasperando residenti e lavoratori. L'allarme è stato dato da un automobilista di passaggio che ha notato diverse auto con almeno un finestrino infranto. Le vittime, principalmente i lavoratori pendolari, hanno scoperto la spiacevole sorpresa all'inizio della loro giornata lavorativa. Qui è diventata una cosa impossibile parcheggiare i mezzi. Ma è già due volte che mi spaccano il vetro del furgone. Mi hanno portato via l'attrezzatura, la prima volta una valuta di quasi 3.800 euro, la seconda volta 4.800. Più si sono portati via la scheda, quella carburante e quella dell'autostrada, io non ne posso più. La polizia è ora impegnata nella caccia dei ladri, sperando che eventuali testimoni possano fornire informazioni utili o che le telecamere di sorveglianza della zona possono aver registrato immagini cruciali per le indagini. Vorrebbero almeno girare le pattuglie di notte a vedere se qualcuno comincia a mettere mano nelle macchine, perché non solo i furgoni, pure i vetri delle macchine rompono. Ormai qui è diventato impossibile a starci. È una cosa veramente allucinante.